Allora, mi chiamo Carmelo, arrivo da Brugherio e auguro ai Poo di continuare a tenerci vivi con la loro musica. La storia preferita? Uomini soli. Lei invece? Sono così tante, mamma mia non sopravi sceglierne una. Oddio, che difficoltà. Vabbè, sicuramente uomini soli bellissima, aspetta, come si chiama quella che ascolto? Quando una lei va via, che ci tengano compagnia ancora per tanto, tanto, tanto. Siamo cresciuti con loro.